C'è un partito che è il partito del no, il partito del sospetto, il partito dell'inquisizione, il partito del giustizialismo e c'è un partito del lavoro, che si contrappone all'idea del viviamo senza far nulla. Continuiamo a pontificare, siamo bravi e siamo buoni, però fondamentalmente viviamo sulle spalle degli altri, viviamo sulle spalle del pubblico e dei sussidi pubblici. C'è un partito del lavoro, delle persone che lavorano, che sono a tutti i livelli, dall'operaio all'impiegato, al dipendente pubblico, tutte le persone che lavorano vogliono essere rispettate, sono state oltreggiate fuori ogni dimensione. In questa città siamo oltre ogni limite. Allora il partito del lavoro è trasversale e noi siamo trasversali. Qui non si tratta di far vincere la destra o la sinistra.